No, questo deve essere ricevuto domani. Prioritaria chi mente? Prioritaria chi mente? Prioritaria chi mente? Naturalmente? Papà, io non capisco. Perché nessuno vuole mai parlare del Grinch? Eh, voi bambini con questo Grinch. Vedi, Cindy, il Grinch è un non so chi, che... In effetti non è un non so chi, è più un... Un che? Esatto, tesoro. E lui è un che strano che non ha mai il Natale. Dà un'occhiata alla sua casella postale, cara. Neanche un biglietto d'auguri, né arrivato, né spedito. Mai. Ma perché? Ehi, Lou, dov'è la mia posta, Lou? Lou, la posta che è mia l'hai data a lui. Ma che domina? Eh, beh, torna subito. C'è un problema. Va bene, cerchiamo di stare allegri, si stiamo tutto, ragazzi. Ci vorranno anche per mettere tutto a posto. Ecco, questo va di là, questo così, questo cosà. Ma, tassa, licenziamento, cartella tasse, 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 tasse. Casini, casini vari, cose così, lettere, 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 lettere. Puntamenti. Ti dispiace darmi una mano, tesoro? E portare queste nel retro, cara? Ma, sta attenta a macchina smistatrice, capito? Sì. Puntamenti. Salute, Max. Tu sei il... Tu sei il... 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 Il Grinch! Beh. Funziona meglio di quanto pensassi. Qualcuno mi aiuti! Max, andiamocene. Il nostro lavoro qui è fatto. Aiuto, aiutatemi! Aiuto! Non è un giochino da rosicchiare. Molla, lascia, lascia, molla. Smettila subito, Max. Subia la bocca. Aiuto! Aiutatemi! Lietosumini di tutto il mondo, unitevi! Aiuto! 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 Tu! Ridiammela subito! Lo sa che non si sapete cose che ne apportengono? Ah! Lo sai che hai stanno nel metodo selvatico? Ah! Andiamocene. Grazie per avermi salvato. Salvato? È questo che tu abbia che io ho voluto fare? Sbagliato? Ho semplicemente notato che l'impacchettata male, mia cara. Sta ferma! Max, passami un fiocco! Puoi mettere qui il dito al secondo? C'è nessuno! C'è nessuno! Aio! Cindy? Papà! Papino! Papà! Ma che zia! Che tesoro? Cindy! Non sai, è stato splendido! Ti sei messa a fare i pacchettini di Natale, non dirmi tesoro come sono fiero di te! Oh! Beh! Ecco cosa sono le chifeste! La dolce Cindy piccolina appariva molto mesta. Il dilemma nella testa batte come una tempesta. Se il Grinch è così spietato, allora perché mi ha salvato? Forse tanto cattivo non è? Vieni, torniamo a casa! Chissà, forse non lo è.